Musica Musica Mi hanno proposto un lavoretto facile facile Una gioie le riempie a Susa Ci muoviamo mercoledì Il committente ci fornisce le armi e la macchina pulita Quel bastardo ha dei contatti che pagheranno una fortuna per quei pezzi di vetro Chi ti ha proposto? Il committente vuole rimanere anonimo Però garantisco io per lui Per quel che me ne frega Meno puoi dirmi quanto ci possiamo fare? 80.000 euro circa A testa A testa Facciamo cazzo Facciamo Pronto? Si sono io Parlami Ho i soldi Ma Ma? C'è stato un incidente Mio compagno È morto mio compagno La polizia ci ha sparato mentre stavamo scappando Aspettami vengo lì Ok Sì? Quinto piano Cazzo Cazzo ma tu sei morto Morto? Tu sei morto T'ho ammazzato Non è stata la polizia? T'ho ammazzato io cazzo Sei morto Lo sapevo puttana Dimmi tutto Ho preso i diamanti Ma ho dovuto far fuori la ragazza E perché? Quella puttana Ha ammazzato nostro fratello La polizia ci ha sparato La polizia ci ha sparato